... Bello il movimento da parte di Insigne che è in vantaggio, cerca l'anticipo e arriva il gol del Napoli! Con il tocco forse decisivo di Ozymane, ma la giocata extra lusso l'ha fatta Lorenzo il Magnifico. Insigne dentro per Ozymane, ancora Odero, la palla probabilmente entrata! Il Napoli è in vantaggio al decimo minuto con Victor Ozymane! Cercato e trovato in aria dal magnifico arcobaleno di Lorenzo Insigne! Lozano che punta a destra, vuole mettere il cross teso, Insigne è Arpiona in aria, va all'indietro Fabio Ruiz col piazzato! Ha raddoppiato il Napoli! Un'altra bella azione manovrata davanti con Lozano cross teso, Insigne ci arriva e va da Fabio Ruiz che la fa passare, dove Ozymane non arriva per tempo. Insigne può andare, si allarga Ozymane, Insigne cerca spazio, trova Gelischi! Il Napoli è davanti con la botta di Piotr Gelischi! Insigne vede libero Gelischi che fulmina Andanovic, 1-0 Napoli! Fabian, la gioca profonda, direzione Insigne che può controllare, palla dentro, Mertens, la sterzata col destro, ancora col destro! Segna ancora Dries Mertens, 2-0 Napoli, decimo minuto, Ciro Mertens, ancora lui! Insigne, il tocco dentro per Mertens che mette a sedere a Cervi, anche Patrick e poi la comoda nell'angolo! Elmas per Insigne che prepara la conclusione, la offre a Fabio Ruiz! A 15 secondi dalla fine, Fabio Ruiz ricambia la storia di questa partita infinita! Insigne prepara per il sinistro, avete visto che effetto ha preso il tiro di Fabio Ruiz! Insigne, palla in aria per Politano! Politano! Il Napoli raddoppia la giocata geniale di Insigne che cerca e trova Politano! Lorenzo Insigne, va il capitano del Napoli, pallone sul dischetto del rigore! Il vantaggio del Napoli al settimo minuto! Colpisce Calidu, Koulibaly! Assist Insigne, Napoli già in vantaggio! Va Insigne, dentro l'aria, colpo di testa di Osimène! Il pallone scavalca la linea, 2-0 Napoli! Secondo assist di giornata per Lorenzo Insigne! Secondo assist di giornata per Lorenzo Insigne!